La nostra, la fagiana figlio io per esempio, è un filino più scura. Il petto? Sì, sì. Questo è difficile avere anche in giapponese. Se le prende fuori sono chiare. Le fagiane ci penso sono molto più chiare quelle selvatiche. Quelle che vede fuori sono bianche. Sotto è bianco. Perché è spettacolo. È diverso dalle nostre fagiane. La nostra è più scura. La nostra è più scura. Come diceva, la scena d'allegamento del base al mangine aiuta. Vedi che colore che ha questo qua. Non è nostro fagiano. È tutta un'altra cosa. No, l'italiano... Ho capito, ma anche quelli naturali, no? Questo ha selezionato. Questo ha selezionato. Un po' più selezione. È di solito più scuro. Molto crue. È crue. Però è diverso dal nostro. È diverso. Quello che trovi in commercio sono, come diceva lui, l'allevamento. Quando hai mai visto il Dodo, si è stinto nell'800. quando l'hai mai visto te? No, ho detto... Ho detto... Magari con il Dodo si riusciano anche a fare delle grazie. Ah, c'è. Poi lo vedo. Perfettamente. 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 Cerca di fare il corpo, non troppo. Spesso. Piace un chilino, diventa verde, poi gli dai il secondo cli. Vedi che da mezza figura. Io sono magro, e anche la mosca faccio un po' magro. Magra. Cioè, stavo guardando nel mirino della 1. Cioè, stavo guardando nel mirino della 1. Quanto al desiderio. Vedi se va bene? Dice che è molto facile. Giusto? Certo. Avevo sentito bene. Sì, se non fosse per il Mauro con il suo faccione, ma va tutto bene. Cacchio ci fai, sei sempre lì. A me piace la scelta di dietro. Che il mio ti trasformò. Dammi, dammi che ne facciamo un'altra scelta. Con Photoshop. Faglia la morsiglia. Faglia il maestro. Eh, scusa. Qui è importante. Hai visto come ha fatto? A questo dentro anche il pilota prende. Eh. E ha mai sfuggito come ha fatto. Questo è importante. Guarda che ha cambiato comportamenti. Qui è una cosa strana. Non l'ho mai visto fare. Non spessare il cimino, no te? Quanto vuole comprare? Che vuole. Prima la compri poi spessi il cimino. Stai comprando il flash. Io non mi metto il no? Eh. Non puoi uscire le siano coline. Mmm. Ecco, lo vorrei vedere. Postatemi indietro. Io l'ho ordinata. Eh, dista. Puoi poi chiedere se ti fa vedere... Non so se c'è dietro. Prova a guardare. Ma la facciamo in fronte. Poi ti giro anche questa, il pane lì Questa è la mia mosca preferita Questo uso sempre nel Trento in Giappone Il Toyama? Tutta parte del Giappone, per me può bastare anche solo questo Ha fatto il Giappone Che passaggio ha fatto, Franci? Ha praticamente rafforzato l'aerco L'aerco è di fagiano femmina Femmina Senti, non prendere il cuore Fagiano femmina, chiedevi le fagiano femmina Non facciamo la gallina di fare il cuore No, chiedevi il cuore Scusate Mi sono... Questo è un fagiano femmina Per piacere i chiudieri le fagiano femmina Per piacere, io fagiano femmina Ma che cosa fagiano femmina? Ma che differenza c'è quella fagiano femmina? Senti, in ieri vittono, le fagiano femmina Questo è un po' più particolare, ma dice che no, una volta un po' di 10 anni può capitare di avere queste piume. Infatti qui non le trovi queste piume, non ci sono così, una cosa strana. Se ti interrompo, guarda le piume, queste qua, con il cavolo che le trovi qui. M'è un po' più particolare, non ci sono. Quando ci sono due piume, un po' con 25 femmine di facciamo, un altro che sarebbe questo, per me può bastare con queste due maschili. Questa è un po' più particolare, un po' più particolare, un po' più particolare, un po' più particolare, un po' più particolare. Inoltre, 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 inoltre. E' un po' più particolare. Ma mi fai un bonifico e io te lo portavo a dare a vedere. Ma il morset è quello su papà. Ho fatto il suo papà. Io non ho capito, ma è un gioco. Mi piaceva chi ha questo. È un gioco. E? Lui dice che è una preferenza. È un gioco. È un gioco. Ma è una preferenza. quale vuole? Antonio. Ah, il numero capito d'ascia. Quello che vince, triunfo. Scusami, una per ognuno di noi, una la deve fare. No, che la compriamo? Una, che la compriamo, però, per ricordo. Ma io la vendo io. La vendiamo noi. La nastro non la facciamo. Questa è la misura più piccola di quella che ha montato stamattina. La misura più piccola di quella che ha usato all'iniziativa. Questa è la misura più grande. Questa è la misura più grande. Questi due tipi. E basta. Sandri, posso chiederti di spostarti? Scusami. Io, quando torno in Giappone, lo percorrerò tutto per trovare quelle fiume di pagine. Con la mancina che va in manetta. Sì, sì, indietro. Schiacciare. Schiacciare questi pagine. Un punto. Ah, quella. Questa è la mia. Che? Che si vuole? Federico. Chico. 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 Questo è la mia pesca con il giallo. Cioè, questo qua con il giallo. Un po' posso? Un po' posso. Una specie o non ha una specie di look? Torn, non lo so. Non ho. Ma è vero. Tu chiedi uno per me. E' un gioco, devi scegliere uno spazio, e poi per un gioco. E' un gioco, devi scegliere uno spazio, e poi per un gioco. E' un gioco, devi scegliere uno spazio. E' un gioco, devi scegliere uno spazio. Sono rivolte tutti in alto. La seta? No. Il rib? Eh.